Benvenuti amici nella top 5 dei mouse da gaming per gli amanti dell'FPS. Quali sono i mouse migliori che potete acquistare? Andiamo a scoprirlo! Una semplice e veloce indicazione per comprendere bene questa guida è una top 5, quindi vuol dire 5 postazioni. Mi sono costretto di conseguenza a fare delle scelte, ad escludere dei mouse e sceglierne solamente 5. Quindi non iniziamo a dire non è messo questo, non è messo l'altro, nessun problema. Potete segnalarli tutti qui sotto nei commenti, però io per questa top 5 mi sono limitato a fare 5 scelte. Andiamo a vedere i mouse appunto migliori secondo me per gli FPS. Iniziamo con una scelta che definisco sicura, cioè il Logitech G502 Proteus. Ha un sensore ottico da 12.000 dpi che può essere regolato da 212.000. Integra 5 pesi da 3.6 grammi l'uno che permettono di modificare il peso. Dispone di illuminazione RGB programmabile, qualcosa di imbiancabile ovviamente. Poi il sensore può essere calibrato anche in base alla superficie su cui poggia. Ha una forma ergonomica e dispone di 11 tasti programmabili. I pulsanti offrono un click veloce e preciso, si può cambiare la risoluzione direttamente al volo e anche la rotella dispone di due modalità, una a scatti e una per lo scroll veloce. Insomma è un mouse con un sacco di caratteristiche, è sicuramente idoneo a moltissime persone, va molto bene per gli FPS ma in realtà va bene un po' per tutto. Il secondo mouse che ho scelto per questa classifica è il Razer Deathadder Chrome. Ma di certo non poteva mancare un mouse Razer. È un mouse senza fronzoli, con un design molto semplice, ergonomico ma senza una forma troppo particolare o spinta. Proprio per questi motivi si è data praticamente a tutte le mani. Ha due polsanti laterali, programmabili, e la forma dei tasti principali un po' conca aiuta a migliorare l'ergonomia. Il peso è di 105 grammi, si può definire leggero per un mouse. Insomma se cercate un mouse con mille tasti programmabili e lucette varie non fa per voi. Se invece badate solo alla sostanza, allora considerate questo Deathadder Chroma. Ho poi inserito il Zowie FK2 che è un po' come il prodotto Razer, bada più alla sostanza, quindi non ha un design particolarmente complicato, però è molto ergonomico. È pensato per gli e-sport e si è data praticamente a tutte le mani. Il sensore arriva a solo 3200 TPI, diciamo che a confronto con altri mouse che superano i 10.000 sembra scarso. In realtà però 3200 TPI sono più che sufficienti, soprattutto in uno scenario da FPS dove la precisione conta molto e quindi si tende a non esagerare con la risoluzione. Oltretutto pesa ancora meno del prodotto Razer, parliamo di 85 grammi. È simmetrico, quindi va bene sia per i destrossi che per i mancini e considerando che è l'unico di questo tipo che ho inserito in questa top 5, praticamente è il mio consiglio appunto per i mancini. Nel caso c'è anche l'FK1 che pesa poco più, 5 grammi in più, è leggermente più grande nel caso appunto avete una mano un po' più grande. Ho poi inserito un prodotto Corsair, l'M65, che diversamente dagli altri è una forma un pochettino più complessa, però più, come dire, futuristica. È l'ideale in questo caso soprattutto perché ha un claw grip e quindi meno perché invece poggia tutta la mano sulla superficie del mouse. È l'ideale anche per chi cerca un pochettino di personalizzazione in più e qualche tasto in più, ha 8 tasti programmabili di cui uno definito sniper button, cioè che una volta premuto abbassa anche la sensibilità del mouse così da essere più precisi negli spostamenti. Potete scegliere anche al volo tra tre impostazioni di velocità, regolare il peso. Di certo rispetto agli altri è un pochettino più impegnativo come mouse, però è l'ideale per chi vuole una massima personalizzazione della propria esperienza durante i giochi FPS. Chiudo poi con un altro mouse che si posiziona diciamo nelle file del Deathadder e dello Zowie in termini di design e di semplicità del design. Sto parlando dello SteelSeries Rival 300. È un po' più piccolo, meno largo del Deathadder, quindi se avete delle mani piccole tenetelo in considerazione. Ha un sensore ottico, anche qui configurabile, nessuna accelerazione e degli inserti laterali in gomma che migliorano il grip. Ovviamente ci sono dei tasti laterali che sono anche configurabili. Come detto, l'ideale se volete un mouse semplice, ergonomico comunque e soprattutto se avete delle mani piccole. Bene ragazzi, questa è la mia top 5 per quanto riguarda i mouse per FPS migliori del momento. Lo so, lo so, solamente 5. Ce ne sono molti altri che avrei potuto inserire, ma ho dovuto fare delle scelte. Non fatevi problemi, qui sotto nei commenti segnalate quello che secondo voi è il mouse migliore, in maniera tale che tutti quelli che leggono, che vedono il video, non possono avere anche più alternative. Trovate il link di mouse che ho scelto io sempre qui sotto in descrizione. Vi ringrazio per avermi seguito in questo video. Vi raccomando, condividetelo, iscrivetevi su Facebook, Telegram, trovate tutti i miei social qui sotto in descrizione e ovviamente iscrivetevi anche al canale. Noi ci vediamo in un altro video. Ciao! Ciao!